e ciao a tutti bella gente sono cazzolioni superstar benvenuti in questo nuovo video dove siamo qui a stravolgere tutto non parliamo come sempre di neverwinter che ho momentaneamente accantonato perché non ho voglia di giocarci ma finalmente ho messo le mani su final fantasy 7 remake allora alcuni storceranno il naso altri diranno grande fatto bene io ragazzi nasco nel genere di questi questi giochi nasco con final fantasy 7 il caro vecchio final fantasy 7 del lontano 96 1996 mortacci mia 24 anni fa ragazzetto vabbè comunque oppure ero diversamente giovane mettetela come vi pare comunque non dopo tutto quello chiamato questo gioco a livello di divertimento logicamente intrattenimento eccetera anche proprio con l'affetto forse il gioco a cui sono più affezionato in assoluto final fantasy 7 non potevo non farmi remake cioè sarei stato una testa di cavolo veramente non farlo dopo aver provato la demo e ho detto no beh devo fare cioè devo farlo voglio tornare al caro vecchio stile al caro vecchio gioco di ruolo offline dove non c'è fretta dove non c'è ognuno fa quello quanto tempo vuoi dedicarsi perché non c'è in competizione con altri c'è più che altro c'è poco tempo giochi poco fai comunque sempre tutto perché giocando da solo logicamente non è come in classiche mmo non è classico negli mmo dove logicamente meno giochi e meno fai perché gli altri vanno avanti e quindi tuo al vero di dungeon eccetera non puoi fare nulla se non giochi pochissimo a che non scioppi ripete un gioco a cui sono molto affezionato veramente ho letto molti commenti tra quelli positivi anche quelli negativi parlando anche c'è infatti anche da giocatori nostalgici come me che magari si aspettavano semplicemente il final fantasy 7 uguale identico con una grafica migliore logicamente non può essere così c'è una questione anche di deduzione ragazzi perché perché è un gioco di 24 anni fa e come noi chi è nato sulle prime console che erano solo il nintendo auto beat o il master system auto beat il mega drive il super nintendo c'è queste console qui si ritrovavano a discutere con giochi che magari erano sul commodore 64 per esempio ragazzi il vecchio commodore 64 un computerino con una cassettina nastro lo spectrum che io avevo avuto per un annetto prima di prima che uscisse il nintendo e il master system c'erano piattaforme sono neanche come chiamarsi computer console solamente chiamiamole piattaforme chiamiamole così diciamo che forse anche col tema non è esatto ma che andava una cassetta la vecchia cassetta audio dove si ascoltavano del mangianastro insomma ragazzi capito quelle cassettine lì erano fatte con quelle giochi logicamente noi che nascevamo più caldo sulle prime console quando avevamo quei giochi cosa è sta roba logicamente stessa cosa vale per oggi chi nasce che ha giocato prima console magari playstation 3 faccio per dire te gli proponi qualcosa del 96 della playstation 1 dove per noi allora la grafica era straordinaria applicato nel durante il gameplay di gioco e durante i filmati ma durante i movimenti nella mappa erano degli omini spigolosi tra una via di mezzo tra il pongo e gli omini dei lego è logico che questi dicono e deve cambiare qualcosa di diversi qualcosa di innovativo anche nel modo insomma di giocare logicamente ragazzi insomma per diciamo così venire incontro un po sia i nostalgici che avvicinare logicamente un nuovo pubblico ok è normale qualcosa sarà più bello qualcosa sarà più brutto ma e lo c'è le cose belle che riescono alla prima botta è difficile ripetere è come un bel film no noi qualsiasi film sia vediamo il primo è bellissimo mamma mia il film più bella del mondo e poi fanno non so fanno ciccio calo il film ciccio calogeno per dire bellissimo poi siccome un gran successo fanno dopo tutti anni ciccio calogeno 2 è logico che come tanti film che fanno adesso dei vecchio stile che sia terminator rambo insomma ma rocky tutto rocchio al rock o e bellissimo però era la rock e bellissima ti sposerebbe se fossi una donna e anche non solo la devo dire comunque e quindi è logico che è una cosa più da nostalgia per chi ricorda le cose le robe uscite bene alla prima è difficile che poi alla seconda o con un remake o qualsiasi cosa sia si possa ripetere la stessa emozione quindi questo va detto poi è tutto sempre come sempre una questione di gusti ragazzi il video un attimo così non so, introduttivo al mio ritorno al Final Fantasy finisce qui ci vedremo in altri dove dal prossimo vedremo anche le prime facce di gioco compreso del filmato iniziale quindi magari logicamente chi ce lo vuole godere a pieno senza sapere nulla senza vedere nulla non andrà a seguire i prossimi video perché poi magari chi ha volato la sua pesce al 100% anche solo per l'introduzione è normale che poi andrebbe a rovinarsi le cose poi magari potrei dire delle cose oltre a far vedere che quindi già sarebbero fondamentalmente per alcuni degli spoiler potrei anche dire delle cose magari che sono spoiler quindi insomma per chi è interessato a godersolo al 100% non vada oltre questo filmato se poi comunque avrà interesse a vederlo comunque perché questo è tutto un attimino una cosa nuova nei video che andrò a fare l'unica cosa che dico che cercherò di godermelo al massimo ok e spero di divertirmi già mi vengono le lacrimucce vabbè ragazzi noi ci vediamo nel prossimo video eventualmente buon game a tutti qualsiasi cosa stiate giocando cosa che anche anzi che comunque vi auguro sempre che invece siate al mare o da qualche altra parte la vita reale è sempre la migliore non ci buttiamo solo in questo godiamoci lì ma che non diventino la nostra vita insomma a meno che non vi pagano ragazzi allora ditemi che vi paga che magari vi chiedo se hanno bisogno di una mano e che vi vengo anche pure io ok ragazzi noi ci vediamo nel prossimo video mi raccomando comunque sia gioco o gioco o altro mi raccomando fate i bravi ciao a tutti e alla prossima ciao ciao